Ciao, benvenuto a questa analisi di aggiornamento sull'S&P. L'S&P è pattesco perché ha seguito, direi in maniera, non si può dire minimetrica perché stiamo parlando di tempo, quindi parliamo al secondo momento, la previsione generata dall'algoritmo e dall'indicatore Voltam da me ideato, quindi è andato a prevedere esattamente nella data del 26 di aprile il minimo, il mercato Mildi ha creato il minimo anche di prezzo questa volta ed è ripartito al Rialto. In questo caso diventa interessante avendo comunque effettuato il ritracciamento, la rottura di 4183 per un ingresso rialzista. Subito dopo la sigla del canale andremo a vedere quanto potrà durare questa fase di rialzo e perché no anche andare a identificare degli eventuali target, ma soprattutto cercare di capire quella che sarà la prossima tendenza più di medio e di medio periodo, sempre chiaramente da un punto di vista ciclo. Dopo la sigla del canale ci rivediamo, nel frattempo iscriviti al canale e clicca sulla campanella, a tra poco. Eccoci, come ho già detto anche nell'altra analisi mi vedrai muovere in continuazione, ho un dolore allucinante alla spalla e non riesco a mantenere una posizione per più di qualche secondo e mi prende tutto il braccio fino a me, ma la gamba è allucinante. E se la prima volta che stai guardando una mia analisi, io mi chiamo Paolo Peisino, ti do benvenuto sul mio canale YouTube innanzitutto, sono un trader dal 2007, mi puoi trovare sul sito tradingpertutti.com. Sono un trader specializzato nell'analisi ciclica, la studio da oltre dieci anni, nei miei quindici anni di esperienza, praticamente ho passato gli ultimi dieci anni a studiare l'analisi ciclica in lungo e in largo, l'ho approfondita in un modo veramente molto molto intenso e ho creato così un corso di formazione di 41 ore, pagamento 1 a tanto, ovviamente, accesso a vita, con annesso un canale Telegram per poter lavorare con l'analisi ciclica, chiedere, imparare e confrontarti e un indicatore proprietario per l'analisi ciclica, quindi io sono uno di quei pochi traders che è stato in grado con la sua esperienza e i suoi studi di creare un prodotto non esistente sul mercato e quindi non utilizzare prodotti degli altri, questo fa capire quanto sono conoscitore di ciò che utilizzo per il mio trading e poi anche un corso di analisi volumetrica, se vuoi invece imparare a lavorare con il volume con un corso totalmente pratico. Per quanto riguarda i servizi, ho ovviamente la possibilità di utilizzare l'indicatore Voltem, ho anche un servizio di segnale intraday, questi sono i risultati del mese di aprile. Io trado Nasdaq, DAX e Dow Jones e a breve credo che andrò ad aggiungere anche l'S&P per quanto riguarda gli indici. 79 punti se chiuso il mese di aprile per il Nasdaq, 272 per il DAX e 322 per invece il Dow Jones. Qua in alto troverai le schede con tutti i vari link per poterti collegare a uno o più dei miei servizi. Andiamo a vedere intanto, facciamo la nostra analisi su appunto l'S&P. Come dicevo è stato pazzesco nel seguire in maniera perfetta quello che era l'andamento ciclo, quindi il picco dell'11 di aprile è stato molto preciso, il minimo del 26 aprile è allucinante quanto è stato preciso in questo caso e vediamo che abbiamo una componente rialzista che durerà fino intorno al 15 di maggio. Però se facciamo un'analisi un attimino più di medio periodo, che cosa ci aspetta per le prossime settimane? Non dobbiamo assolutamente non considerare il fatto che siamo in realtà in una componente ribassista importante che sta per iniziare. Se vado a levare il ciclo da 40 giorni, come puoi vedere l'indicatore basta levare in maniera molto veloce cliccando sul pulsante i cicli di analizzare, l'onda composta che è una somma di tutti i cicli va ovviamente a variare man mano che vengono tolti oppure aggiunti dei cicli. In questo caso stiamo parlando di 11 anni di analisi, quindi abbiamo uno storico per indicatore, anzi l'ho fatto manualmente, che vado ad analizzare e qui nella colonna di destra abbiamo la durata media reale di tutti questi cicli negli 11 anni. Quindi stiamo lavorando cicli da 40 giorni che hanno una media di 35, 80 giorni 64, 20 settimane anziché 140, 110 eccetera. Conteggi che a mano non sono fattibili. Quindi soltanto un algoritmo come il mio è in grado in automatico di fare un'analisi nel passato e proiettarlo nel futuro. Ecco perché l'analisi nel futuro, le date vanno sempre prese in considerazione ma dovremmo sempre attendere che vengano confermati i cicli in corso perché una volta che un ciclo viene confermato abbiamo anche una conferma per la pari durata del ciclo confermato di quello che sarà il movimento nel futuro. Tanto per intenderci in questo caso i due minimi più vicini sono un ciclo da 40 giorni, questo minimo è confermato, quindi questo massimo è confermato. È confermato in realtà al momento anche il minimo del successivo ciclo 40 giorni che al momento è previsto per il 6 di giugno. Però se in questo arco temporale, ecco esatto, abbiamo anche un ciclo 80 giorni che deve essere chiaramente ancora confermato che è questo a meno che nella varianza non sia andato ad agganciarsi qua, molto probabilmente sì, allora potremmo avere una piccola variazione nel futuro. La varianza è un principio cartine dell'analisi ciclica perché c'è un po' l'illusione e sono anche un po' gli ethers, quindi i detrattori dell'analisi ciclica, ossia gli ignoranti che per screditare un qualcosa fanno vedere degli archi sempre fissi, come la maggior parte delle piattaforme hanno degli archi fissi, dicono ecco vedi il mercato non è ciclico. Il mercato è assolutamente ciclico e anzi è l'unica analisi che è in grado di andare nel passato e fare un'analisi statistica. Perché? Perché i prezzi, come ben sappiamo, sono giusto giusto dal 2008 che non vediamo più quei prezzi là. Quanto è statistico il prezzo, com'è interessante, com'è utile analizzare i prezzi che non vediamo da 25 anni, poco meno. Invece anche in una fase di altista i cicli sono sempre quelli, ci sono sempre cicli da multiday, 10 giorni, 20 giorni, 40 giorni, 80 giorni, 27 anni, eccetera, anche all'interno di una componente monodirezionale. Quindi essendo l'unico strumento in grado veramente di dirci che cosa farà il mercato, ecco che dobbiamo dare però l'opportunità ovviamente al mercato di effettuare i suoi movimenti. Quindi un ciclo da 40 giorni sappiamo che potrà durare 50, 30, ballare lì dentro grossomodo e quindi andare a generarci quelle che saranno le future previsioni. Quindi rimaniamo tra noi. Qua long mi piace anche se siamo su un livello di resistenza importante perché il mercato ha fatto un ritracciamento. Ovviamente chi è entrato, io non faccio multiday, quindi non racconto balle, ho fatto gain che non ho fatto perché non faccio multiday, però chi è entrato sul ritest di questi livelli di supporto che erano i livelli che ho menzionato più di una volta nelle mie analisi precedenti sicuramente ha portato a casa del buon profitto. Mi piacerebbe che magari sotto nei commenti lo andassi a scrivere se hai fatto profitto con le mie analisi e in questo caso perché no, una rottura si potrebbe andare anche a prendere dell'S&P con ovviamente prima area di livello di target vivo all'italiano previsto intorno a 4.293 e poi a 4.327, ossia i massimi di agosto 2022. Il problema qual è? Il problema che poi non è un problema è che se andiamo a misurare gli swing normali abbiamo un po' poca strada perché gli swing evidenti sono da 203 punti 196 punti, qui ne abbiamo già fatti 120 quindi mantenendo i 200 arriviamo più o meno qua adesso a disposizione avremmo circa 70 punti poi molto probabilmente il mercato andrà a buttare fuori tutti quelli che sono entrati con la rottura di 4.183 tra l'altro è molto interessante allora uno possiamo già iniziare a tracciare una tra l'anno dei ciclo 40 giorni quindi uniamo il minimo di questo ciclo e il minimo cioè questo minimo e questo minimo che sono questo ciclo da 40 giorni tra l'altro è già blu e quindi è corretta e qua vedi che abbiamo una tra l'anno azzurra la tra l'anno azzurra è quella di un ciclo 80 giorni questo è molto importante perché sarà un livello di resistenza notevole quindi un ingresso long vorrebbe la pena comunque liquidarlo in parte contro la tra l'anno inciclica e molto probabilmente, poi non ho chiaramente la bacchetta magica ma le tra l'anno inciclica sono veramente molto importanti cioè probabilmente potremmo anche assistere poi a un tentativo di rottura che magari non va a buon fine e poi allora all'eventuale ripartenza al ribasso quindi queste tra l'anno dei ciclo 80 giorni che vi invito a tracciare quindi il minimo di settembre 2022 e il minimo di dicembre 2022 sono quelli che creano oltre l'anno 80 giorni tenetela, qui ha già tenuto, quindi già da considerare fosse poco valida però potrebbe tenere ancora una volta qualora dovesse arrivare il prezzo in concomitanza dei massimi del 15 di maggio certo che sarà molto molto interessante se il mercato rallentasse la sua ampiezza di movimento quindi iniziasse a fare candeline più piccole perché queste potrebbero accompagnare tranquillamente il prezzo fino al target di 4.327 quindi raggiungendo il picco del ciclo da 40 giorni e senza andare a incontrare una forte resistenza che è quella della 39 80 giorni con questo direi che è tutto, direi che sia chiaro il fatto che il mercato è ancora long sappiamo che abbiamo a disposizione ancora un centinaio di punti poi un ritracciamento se mantiene gli swing precedenti è fisiologico e andrà a buttare fuori tutti i longhisti quindi raggiunto questi centinaio di punti vale la pena incassare secondo me e neanche mettere a pari ma incassare direttamente aspettare eventualmente un ritraccio per una ripartenza ma a questo punto il tempo inizierà a essere probabilmente un po' tiranno e quindi una volta incassato il long iniziare a cercare una componente ribassista più importante che vede anche un minimo importante nel mese di agosto intanto qui vado ad aggiornare i cicli da 40 giorni chiaramente queste sono date ancora totalmente teoriche da confermare poi man mano che passeranno la settimana con questo direi che è tutto siamo a 10 minuti fin troppi ti do appuntamento alla prossima analisi ti auguro un buon fine settimana ciao